Nel giorno in cui a Bari esplode l'ennesimo scandalo sul voto di scambio con l'avvocato ed ex candidato sindaco Michele Laforgia che ha confermato di aver denunciato in procura presunti nuovi episodi legati alle amministrative in corso a Bari arriva Paolo Zangrillo, il secondo ministro impegnato nella volata leghista Fabio Romito personalità che, secondo il responsabile della pubblica amministrazione, risponde all'identikit del candidato ideale del centrodestra. Una persona che è legata al suo territorio, che ha profonde radici sul suo territorio, una persona che ha maturato importanti esperienze dal punto di vista amministrativo. A differenza del ministro della cultura Gennaro San Giuliano, Zangrillo non pensa un ruolo nell'ipotetico nuovo governo della città. Io non mi candido ad avere un ruolo ma sicuramente sento la responsabilità di aiutare la Puglia, di aiutare la città di Bari ad avere una pubblica amministrazione che funziona, ad avere una pubblica amministrazione che ha un dialogo virtuoso tra enti territoriali e amministrazioni centrali. Nel frattempo la città è scossa dalle nuove presunte ipotesi di voto di scambio. Se queste notizie dovessero essere verificate sarò la sua seconda firma. Aggiungo che abbiamo assistito in campagna elettorale dei comportamenti assolutamente indecenti, anche da parte di chi ha governato la cosa pubblica. E ci sono diverse forme di condizionamento del voto, anche quella di esercitare la propria funzione istituzionale per convincere gli elettori a sostenerlo. Ma preoccupare il candidato del centrodestra è anche il metodo con il quale circa 200 presidenti di seggio sono stati sostituiti. Come sono stati scelti, con quali caratteristiche, attraverso quale metodo, con quale procedura trasparente. Perché a mia memoria i 200 presidenti di seggio sono stati cambiati e sostituiti dall'ufficio di gabinetto del sindaco. Guarda caso, se io ricordo bene, l'ex ufficio dell'attuale candidato sindaco del centro-sinistra di Bari.